Amici di Rosso Parma, siamo con Dimitri Paini, Dimmo, è diventato famoso come Dimmo. Senti Dimitri, tu sei diventato protagonista, tu malgrado magari, perché probabilmente non lo immaginavi neanche, di un video che è diventato virale e che a un certo punto è cominciato a diventare la voce di un intero quartiere. Lamentavi lo stato di abbandono di un intero quartiere, di Via Navetta. Che cosa volevi dire? Il mio sfogo è stato semplicemente uno sfogo perché era da lunedì pomeriggio di ore 5 che eravamo in una situazione catastrofica, a dire poco. Ho semplicemente detto quello che ho visto. Io ho visto che i militari che sono stati mandati nella mia via, nel mio quartiere, erano 3 camion con 2 persone su ogni camion. E io di queste 6 persone qua non ho visto nessuno dare una mano a nessuno. Parlo degli alpini che sono limitati a dirigere il traffico, parlo della gente che pensava più al traffico che c'era in quartiere che a sporcarsi le mani e aiutare ragazzi volontari di tutta Italia. È stato semplicemente uno sfogo, non pensavo di creare così tanto scalpore. Mi fa piacere se l'ho parlato perché vuol dire che la gente la pensa in un consulio. E con questo non so cosa posso dire, se c'erano altri militari che hanno lavorato, io non li ho visti. Quindi io parlo solo delle persone che ho visto. E con questo non so, poi la persona che mi ha fatto il video, io non la conosco, è stato un incontro casuale. Ha chiesto di riprendermi mentre mi scogavo, semplicemente accettavo. Senti Dimitri, tu sei diventato protagonista anche in un secondo momento. Cioè in virtù del grande successo di visualizzazione del tuo video, cioè oramai penso che stia andando intorno al milione di visualizzazioni. Mi hanno detto così. Sì, ho controllato ed è più o meno a quota un milione, che per una città da 500 mila abitanti, Parma e provincia, vuol dire che ce lo siamo visti tutti almeno due volte. Sei diventato, in virtù di questo, protagonista a due facce della serata di Ballarò. Ballarò è un collegamento che deve dare voce al quartiere, alla cittadinanza. È un quartiere che poi a un certo punto è stato tacitato, perché comunque questo servizio è andato in onda. Che cos'è accaduto quella sera lì? Che cosa ti ha urtato? Che cos'è che in realtà... Ok, allora, innanzitutto tengo a precisare che nessuno ci tiene, almeno per quanto mi riguarda, a finire su giornali, televisione. A me non mi interessa niente. Sono stato contattato, perché hanno visto questo video, non so in che modo, e mi è stato chiesto se era possibile farmi delle domande in intervista, che sarebbe andata in onda con Ballarò. Io ho accettato, perché mi sembrava giusto, visto che ci ho messo la faccia, continuare a dire la mia. Al momento della diretta c'è stato come imposto di dire determinate cose che noi non volevamo dire. Su argomenti che a noi non interessavano, cioè casse di espansione, spreco di dinaro pubblico. Io volevo semplicemente dire quello che tutti hanno visto. Non c'è stato permesso, c'è stato detto che ci siamo presentati vestiti troppo puliti e di conseguenza io ho guardato la giornalista e gli ho detto se voleva vederci sport, doveva venire una settimana prima. Poi dopo, improvvisamente, hanno detto che la scaletta era saltata da Roma, non hanno più dato possibilità a noi che abbiamo vissuto nel fango per 5-6 giorni e di dire quello che realmente serviva da dire. Con questo, non so se è un programma che deve dare la voce al popolo, come mai a noi non ce l'ha data se siamo diversi da tutti gli altri. O se era solo per far odio, se dovevamo venire vestiti sport, che non gli è sembrato giusto. Senti Dimitri, e adesso il quartiere, l'impressione, scusate se sono così brutale, io normalmente vado direttamente al solo. La mia sensazione è che in un certo senso aver partecipato tutti e di essere stati così efficaci nelle pulizie possa diventare quasi un danno. Nel senso che il sistema di rimborsi, il grado di... Quattro? Ebbè no, questo è un grado di popolare, lo godo da Dio. In realtà la mia impressione è che essere stati troppo bravi potrebbe quasi essere un boomerang in termini di rimborsi. Mettersi a piangere di più, piangere morto, tra virgolette, scusa l'espressione così cattiva. Adesso siamo tutti belli, siamo tutti puliti, tanti saluti, è stato bello, ciao! Esatto, guarda, io ho come la sensazione che molta gente non abbia capito realmente la gravità della cosa che è successa, perché nella fortuna c'è stata la sfortuna che è stato colpito solo una parte di questo martello. Quindi molta gente che era al di fuori non si è reso al punto della gravità. Mi dispiace dirlo, ma forse se ci fosse stata la tragedia, che per fortuna non c'è stata, avrebbero capito tutti la portata del danno che abbiamo ripulito. Noi siamo stati molto bravi a pulire e a ripulire, perché a noi interessava solo riuscire ad entrare nelle nostre case, tornare alla normalità e poter riprendere i nostri lavori. Se questo è stato visto come, ok, avete ripulito, noi di danni non ne vediamo, quindi di soldi non pensiamo che avete avuto così tanti danni. Questo è un problema che bisogna risolvere e fare le domande a chi dovrebbe pagare i danni che sono stati fatti, perché se loro si prendessero la briga di andare a vedere le cantine, alcune case di via Po, che hanno perso tutto, chi macchine, chi mobili, chi appartamenti, chi posto di lavoro, alle piccole figlie, magari si renderebbero conto che siamo stati bravi a ripulire, ma non siamo stati così bravi a riuscire a ricostruire le cose con le nostre mani, qua ci servirà meglio. Posso concludendo farti un'ulteriore domanda e con questa chiedo, la sensazione da fuori, da fuori, veramente io abito in via Bezzecca, è notoria, ma la sensazione è che dal Montanara sia emersa una specie di messaggio del tipo siamo così uniti che non abbiamo quasi bisogno di voi di istituzione, cioè c'è stata la popolazione che ha fatto una cosa e le istituzioni che quasi quasi sono state marginali a guardare. Esatto, forse perché il bello di questo quartiere è che siamo un quartiere estremamente uniti, legati, giovani, vecchi, meno giovani, meno vecchi, purtroppo sì, è come dici te, sembra quasi che questo è un quartiere talmente unito che non abbiamo bisogno di aiuti da nessuno, quando in realtà questo è un quartiere così unito perché è un quartiere che è nato come quartiere povero, poi noi siamo stati col tempo bravi a farlo diventare meno povero, però rimane sempre il fatto che siamo un quartiere come tanti altri e qualsiasi e con questo penso abbiamo esaurito l'argomento, volevo solo darti una voce, tuttavia